A seguito delle preoccupazioni espresse da parte di alcuni cittadini del quartiere Cona a Teramo per le modalità relative alla delocalizzazione della centrale elettrica dell'Ener, l'amministrazione comunale ha voluto fare il punto sui lavori di interramento. Un anno fa, ricordiamo, sono stati portati a termine da parte del comune di Teramo gli interventi di abbattimento del capannone, che si trovava nell'area dove la centrale sarà trasferita. Uno spostamento fortemente voluto dai residenti, reso possibile grazie ai fondi Masterplan da 2,5 milioni di euro. I lavori della nuova centrale vanno avanti, stanno andando avanti. Adesso il comitato ci ha chiesto, il gruppo di persone che l'altro giorno hanno rappresentato questa problematica, sono chiesto ulteriori informazioni che stiamo raccogliendo e che nelle prossime settimane ovviamente riconvocheremo per poter portare avanti, per poter dare le giuste risposte alle loro domande. Dall'altra parte c'è una problematica connessa alla realizzazione del progetto che è stato praticamente identificato, che praticamente vede Terna promuovere un progetto alternativo temporaneo in attesa delle autorizzazioni della via a livello ministeriale del Ministero della Transizione Ecologica e che potrebbe in qualche modo portare alla luce, potrebbe creare qualche piccolo disagio temporaneo, ma che comunque Terna ha già messo nero su bianco che eventuali talicci che dovessero nascere nel periodo in cui, e si va ad attivare la nuova centrale, rimuoverà a spese ovviamente di Terna e non con una spesa da parte dei cittadini o di chi che sia. Quindi voglio dire, è semplicemente una situazione temporanea che si risolverà nel giro di pochissimi mesi, forse parliamo anche di un anno, ma nello stesso tempo che produrrà il primo progetto iniziale e che vede l'interramento da quasi la zona del deposito della tua, ex ARPA, fino ad arrivare alla nuova sede della centrale di trasformazione. Quindi voglio dire, rimane il progetto approvato di allora, rimangono tutte le condizioni di allora, con una situazione di temporaneità che in qualche modo potrebbe vedere una modifica rispetto al passato. Grazie.